fonti reali di buckingham palace hanno affermato che la famiglia reale si sente stanca del fatto che il principe harry e megan ne parlino ai media secondo female fonti di buckingham palace hanno affermato che i reali si sentono esausti e frustrati dal principe harry e megan markle che criticano pubblicamente la famiglia reale le fonti hanno affermato che re carlo e la regina camilla sono stanchi del commento del duca e della duchessa del sussex la nuova rivelazione arriva pochi giorni dopo che netflix ha pubblicato il trailer del prossimo documentario sul principe harry e megan markle il trailer per lo più in bianco e nero include una voce fuori campo di harry in cui dice nessuno vede cosa sta succedendo a porte chiuse la voce fuori campo appare accanto a un'immagine di megan che piange che poi passa un'immagine della famiglia reale punto punto l'attesissimo documentario affronterà la relazione di harry e megan con altri membri della famiglia reale fonti reali da buckingham palace hanno detto al mail on sunday che sia charl che camilla non sono preoccupati ma stanchi e la fonte ha sottolineato la parola stanco hanno detto che la famiglia reale aveva compiuto gesti magnanimi e molto deliberati per includere harry il più possibile durante il funerale della regina elisabetta a settembre che includeva la richiesta al reale di indossare la sua uniforme militare durante un'importante veglia punto tuttavia la fonte ha affermato che la monarchia viene ora ripagata con continue esplosioni da parte dei sussex un insider di buckingham palace ha anche sottolineato che sia harry che megan hanno fatto apparizioni sui media dopo che entrambi i reali hanno dichiarato di volere una vita più privata ciò include il podcast spotify di megan e il libro di memorie di harry che uscirà a gennaio la fonte di buckingham palace ha ripetuto è molto faticoso che uscirà a gennaio la fonte 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 di rispondere